Il Comune di Silvi rinnova il suo impegno nella promozione dello sport con la quarta edizione della Settimana Europea dello Sport in programma dal 26 al 29 settembre. L'iniziativa organizzata in collaborazione con l'Associazione Atletica Pomano proporrà una serie di attività, dimostrazioni e dibattiti coinvolgendo le associazioni sportive del territorio. Questo è un evento che si ripete per la quarta volta a cui noi teniamo tantissimo. Rispetto agli anni scorsi abbiamo un programma un po' più vasto, sono quattro le giornate e più spazi pubblici vengono coinvolti. Realizzeremo soprattutto domenica un evento a quale auspico un'ampia partecipazione da parte dei cittadini, una giornata fatta di divertimento e di inclusione. Tra gli appuntamenti di rilievo il 26 settembre in piazza Colatriani si terrà l'incontro con Annalisa Minetti, nota cantante e atleta paralimpica. Il giorno successivo, il 27 settembre, nella sala consigliare del municipio saranno ospitati Ilenia Colanero e Daniele Riga, campioni mondiali rispettivamente di apnea paralimpica e calcio balilla paralimpico. Ci sarà la giornata clou il 28 qui tra piazza dei Pini e piazza Garibaldi dove tutte le associazioni di Silvi metteranno in mostra i propri atleti e le proprie attività. Sarà una bellissima giornata di sport dove, come dicevo, le associazioni metteranno in vetrina le proprie attività. Poi domenica ci sarà un incontro in piazza dei Pini con tutta la cittadinanza per quanto riguarda i giochi tradizionali. Possiamo dire una vetrina molto importante, facciamo un invito a partecipare. Sì, speriamo che tutta la cittadinanza è già al corrente dell'evento, in tanti ci chiedono, anche perché siamo alla quarta edizione. Ormai è una tradizione qui a Silvi la settimana europea dello sport dove veramente si fa lo sport, non solo sport ma anche inclusione.